Sono giorni difficili per Leonardo Delia, titolare del Black Marmalade Records. Il suo patrimonio di preziosi dischi vinili è andato in fumo a causa di un corto circuito sul furgone con cui si stava dirigendo a Siena per partecipare ad una fiera evento. Eravamo in fase di trasferta con il negozio all'Ars Rock Festival, che è un festival molto importante che frequentiamo a chiusi da diverso tempo, e in fase di trasferta due minuti dall'arrivo del festival improvvisamente abbiamo notato, abbiamo incominciato a sentire un odore di gasolio, un lieve pennacchio di fumo che si sollevava dal cofano del furgone. Siamo scesi immediatamente, ma a causa di un corto circuito, è probabile di una rottura di uno degli iniettori del gasolio, della nafta, il furgone ha preso immediatamente fuoco, quindi non abbiamo potuto fare assolutamente nulla per poter intervenire, cercare di domare le fiamme o altro. Un danno importante dal valore di circa 40.000 euro che ha messo alle corde il titolare di uno dei pochi negozi di dischi rimasto in città, notevole la catena di solidarietà che si è subito allertata per aiutare Leonardo a riprendere l'attività. Innanzitutto sta andando veramente molto molto bene, non ci aspettavamo una forma di risposta così da parte di tutta Italia, perché stiamo ricevendo donazioni da parte di tutta Italia, ma anche donazioni fisiche come dischi che vengono consegnati dai clienti o da una serie di negozi di dischi in tutta Italia che mi stanno portando merce. Adesso con tutte queste testimonianze di affetto, con tutta questa solidarietà, con tutte queste proposte che stanno arrivando, c'è stata una grandissima iniezione di fiducia e ipotizzo nel giro di un mese di poter essere di nuovo operativo, magari non come prima, con maggiore umiltà rispetto a prima, con ancora più determinazione. Questo sarà l'obiettivo per cercare di far riprendere il Black Marmalade Records. Leonardo Delia e il suo Black Marmalade Records hanno dato tanto alla città, ha dichiarato il vice sindaco Daniele Vimini. È il momento di ricambiare la generosità ricevuta e aiutare, anche con un piccolo contributo, questa attività a ripartire. È stato lanciato una crowdfunding, una raccolta di fondi collettiva che tiene insieme anche qui tante associazioni in giro per l'Italia, tanti pesaresi, tante persone che la fanno, dal resto della provincia, che amano questo Black Marmalade, negozi di dischi e anche la professionalità di Leonardo Delia. La raccolta fondi andrà direttamente a Black Marmalade, tant'è che è dalla pagina di Leonardo Delia che è stata lanciata. È sufficiente andare appunto nella pagina di Leonardo Delia o di Black Marmalade per essere poi indirizzati alla raccolta fondi o direttamente anche alla piattaforma GoFound.me, che è una delle più conosciute di quelle che tratta anche il massimo di trasparenza nel trasferimento dei fondi. È stato lanciato un obiettivo di 20.000 euro da raggiungere in un mese, però è chiaro che sono importanti i primissimi giorni per dare la spinta. È partita forte perché comunque c'è tanto amore, tanto affetto verso questa attività, anche verso la persona. Però invitiamo appunto ad andare sulla piattaforma GoFound.me o nella pagina Facebook o Instagram, anche mi sembra, di Black Marmalade Records per poter partecipare direttamente anche con 5 euro o quello che uno ritiene per raggiungere questo obiettivo e soprattutto vedere il negozio poter ripartire presto e bene. Grazie a tutti.